Sono stati il più giovane degli scolari e il più anziano del gruppo di volontari che si occupa della raccolta dei rifrutti riciclabili raccogliendo fondi per iniziative di solidarietà a tagliare il nastro dell'inaugurazione della piazzola ecologica di Gorno. Una cerimonia semplice ma significativa che ha coronato alcuni anni di lavoro da parte dell'amministrazione comunale. Oltre a risparmiare sui materiali che non andiamo a conferire in discarica alla fine si vuole mandare anche un messaggio ecologico chiamiamolo, il materiale che si può riciclare è meglio riciclarlo, non buttarlo e poi andare a cercare di ricostruirlo ancora. Siamo partiti con la realizzazione di una piccola costruzione, poi abbiamo costruito queste vasche, poi abbiamo ampliato le vasche abbiamo predisposto, non è ancora terminato ma a giorni verrà terminato, un luogo per poter conferire quelli che sono i rifiuti delle parecchiature elettriche. Da ultimo abbiamo voluto aggiungere anche un impianto di videosorveglianza, per cui è chiaro che tutto questo ha portato a un costo superiore alle 100.000 euro che è stato finanziato quasi tutto dal comune di Gorno con un contributo da parte dell'amministrazione provinciale di Bergamo e un contributo anche che è stato erogato dal gruppo di raccolta di Gorno che ha voluto fornire questo aiuto all'amministrazione. Durante il suo saluto ai presenti il sindaco ha ribadito il senso profondo di questa iniziativa. La finalità è triplice, quella di non conferire in discarica dei rifiuti, quella di educare anche, per cui un discorso ecologico, e poi alla fine anche una finalità, quella di andare a finanziare delle attività sociali in Italia e all'estero e penso sia anche questo un messaggio positivo alla popolazione. La piazzola aprirà i battenti a partire dal mese di luglio.